Un'anziana signora che non riesce neanche ad arrivare a fine mese, una mia conoscenza di vecchia data, diciamo così, su quelle persone che uno conosce per caso e poi ci si affeziona un po', mi ha chiesto di andare, di fargli una cortesia, andare alla farmacia a comprargli delle medicine, ovviamente sono andato, sono andato perché ha difficoltà anche a muoversi, sono andato e tra queste medicine c'era una medicina per la cistite, Adesso io conosco, diciamo così, questo farmaco e praticamente sapevo che la confezione erano delle bustine da tre, almeno tanti anni fa, perché questo farmaco va preso la sera per due o tre volte di seguito, per appunto eliminare questo problema della cistite che è un fastidiosissimo problema di infiammazione della vescica che contiene l'urina. Si ha un fastidio enorme e praticamente si ha sempre il bisogno di urinare in continuazione, ma anche se l'urina non c'è, perché c'è questo fastidio generalizzato molto forte. Poi dipende anche dalla gravità di questa malattia. Se non che vado e compro questa confezione e mi trovo che anziché pagare circa 15 euro per una confezione con tre bustine, pago 11 euro per una confezione con due bustine. Tecnicamente avrei risparmiato, no? Secondo quello che mi ha detto il farmacista, la casa farmaceutica ha deciso di intraprendere questa strada per far risparmiare il paziente, in quanto anziché di spendere 15 euro ne spendeva 11. Fine qua non fa una grinza il discorso, ammesso che sia un discorso veritiero, ma andiamo a analizzare che cosa è successo dopo. È successo che questa signora ha fatto le due bustine, ma la malattia, chiamiamola così, era abbastanza forte e aveva bisogno di una terza bustina per finire il trattamento. Mi ha rimandato in farmacia e ho ricomprato una seconda scatola, pagandola altri 11 euro. morale della favola, morale della favola, se prima la scatola costava 15 euro e c'erano tre bustine che se servivano tutte e tre si utilizzavano, se no l'altra si buttava, uno spendeva comunque 15 euro, con quest'altro sistema di marketing di queste case farmaceutiche la signora ha dovuto comprare due scatole di cui ogni scatola conteneva due bustine che anziché pagarle 5 euro l'uno, le ha pagate tutte e due 11 euro, quindi 5 euro e 50. La casa farmaceutica ha guadagnato di più su ogni confezione con questo stratagemma di marketing, ha guadagnato molto di più perché immaginate su tante confezioni vendute si parla di milioni di euro in più, così, senza muovere un dito. Dopodiché la signora ha avuto bisogno della terza bustina e praticamente ha dovuto comprare una seconda confezione spendendo in questo modo anziché 15 euro, 22 euro, 11 e 11. Questi sono i marketing utilizzati e c'è gente che ci studia sopra per cercare di fotterti, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro, io posso capire una persona che lavora, una persona che sta bene, gli vuoi fregare qualche euro in più, non se ne accorge neanche, ma una signora pensionata con una pensione ridicola di circa 400 euro al mese deve pagare un po' di tutto, diventa difficile, diventa difficile anche tutto quel, parliamoci chiaro, quel casino macchiavellico del codice fiscale, te lo puoi scaricare, allora ti fai fare la ricetta dal dottore e poi torni lì e poi vai su e poi vai giù, è un disastro, immaginate questa signora che non si può muovere, dovrebbe andare dal dottore a farsi fare la ricetta per avere uno sconto per tornare indietro che poi tanto alla fine il prezzo finale, chi guadagna la casa farmaceutica, guadagna sempre lo stesso perché comunque o pagava la signora, o pagavo io, o paga lo Stato, con questo stratagemma ha fatto sì che anziché di vendere una confezione da tre, ha venduto due confezioni da due, guadagnandoci di più. Queste sono cose geniali, cioè ci sono veramente persone che studiano su queste cose, ma non solo nel campo delle medicine, quindi in questo campo, ma in tutti gli altri campi, campi che ovviamente devono servire in qualche modo, sai, avendo questo fastidio, più la malattia è un fastidio forte e più possiamo permetterci di alzare anche il prezzo del farmaco, calcolate che ci sono dei farmaci, di chemioterapici piccoli così che costano 20.000-30.000 euro, è chiaro che noi diciamo, eh, ma sì, li passa lo Stato, sì, li passa lo Stato, ma secondo voi un farmaco così 30.000 euro, e neanche possiamo dire, eh ma sa, c'è la ricerca, dobbiamo ammortizzare la ricerca. Raga, 30.000 euro, 40.000 euro, un farmaco con tanto liquido così, una boccettina con tanto liquido piccolo, poco così. E quanti malati di tumore ci stanno? Quanti farmaci sono stati già venduti da anni, 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 anni? Li hanno ammortizzati questi costi, penso, no? Da 20.000 euro dovrebbero scendere? No, perché tanto è comunque tutto finanziato da noi, dallo Stato, lo Stato siamo noi, tramite le tasse, visto che abbiamo l'IVA che sta salendo vertiginosamente, visto che ormai le, diciamo così, le aziende pagano anticipatamente le tasse su studi di settore, tu che lavoro fai? L'idraulico? Per me devi guadagnare 50.000 euro l'anno, per cui pagherai le tasse su 50.000, ma io veramente non ho guadagnato i 20.000, non mi interessa. Studio di settore, tu che fai? Il dentista? Studio di settore, tu devi guadagnare totta, se no chiudi. E poi che mi metto a fare? Tutto il marketing, questo marketing lo usa a sua volta anche lo Stato con i cittadini. E' marketing, ragazzi. Svegliatevi, il marketing è il futuro, il marketing. Aumenti un po' di qua, togli un po' di là, levi una bustina, ne metti due anziché tre, aggiungi 50 centesimi a bustina, vendi, non ce la fanno con due, comprano l'altra da quattro, la quarta la buttano perché ne usano tre, poi si rovina, c'è una data di scadenza. Il marketing, che bello, il marketing. Ciao ragazzi.